Sant'Ippolito, il paese degli scalpellini, un borgo del nostro entroterra adagiato su una collina di 250 metri circondato da un rigoglioso paesaggio a 9 chilometri da Fossombrone. Un borgo di 1600 anime ricco di storie e tradizioni secolari alle quali i suoi abitanti e i suoi nativi sono fortemente attaccati. Come Fabrizio Contarini, ingegnere nato qui ma che poi la vita lo ha portato nella capitale ma che con Sant'Ippolito ha mantenuto un forte legame sia per piacere personale che di attaccamento alle radici della sua famiglia che in parte è sepolta proprio nel piccolo cimitero comunale. Ed è qui che Fabrizio e la sua famiglia purtroppo stanno vivendo una spiacevole vicissitudine legata proprio alla tumulazione di uno dei suoi cari. Mio padre non trova spazio in questo cimitero, nel senso che è parcheggiato da un anno e un mese e più in un posto in attesa che vengono costruiti i posti nuovi quando quelli esistenti non vengono sfruttati né conservati né restaurati. A me sembra un fatto speculativo da tecnico e quindi dico tutto questo ma non per un fatto personale, lo dico proprio per un decoro di Sant'Ippolito perché io ci tengo, c'è tutta un'ala che sta crollando del cimitero nella parte destra mentre si costruisce un'ala nuova e non mi sembra giusto da tecnico buttare il vecchio per costruire il nuovo, cioè i ricordi, se tornassero queste persone che non ci sono più ci prenderebbero a calci nel sedere penso. C'è una decadenza assoluta, addirittura manca l'impermeabilizzazione dei loculi, per cui l'acqua meteorica che si infiltra giustamente, che non dovrebbe, si infiltra nelle tombe, le dilava e inquina anche le falde acquifere che ci sono, cioè non è un, anche per una questione igienico-sanitaria, non è una cosa giusta. Anche perché ci sarebbero spazi per tumulare le persone e tecnicamente sarebbe fattibile un intervento? Certo perché basterebbe fare una cremazione, basterebbe sistemare le tombe, al di là del fatto tecnico, strutturale, anche diciamo sistemare questi loculi mettendo più persone nelle stesse, i stessi familiari che magari lo desiderano anche, come il mio, anche altri magari, ma non per un fatto di risparmio, per un fatto proprio di conservare i ricordi, che le persone che ci credono fa piacere, come a mio padre, per esempio stare con il padre, oppure stare con la madre, con una sorella, cioè tutte le sorelle e i fratelli sono stati messi tutti insieme, non so per quale fatto coincidente, però questo è stato fatto, perché mio padre deve stare da solo, buttato in una parte, ripeto, se uno ci crede, è un conservare, rispettare i morti, e non è giusto questo, rispetto dei morti.